Asfalto fumante e pneumatici stridenti l'hanno fatta da padroni a fermo durante il Drift Friend Day dello scorso 28-29 settembre. L'evento organizzato dal Team 96 di Ravenna del presidente Roberto Di Giovanni ha tenuto con gli occhi incollati alla pista i curiosi e tanti tifosi appassionati del drifting. Al cartodromo Dino Ferrari si sono sfidati 50 piloti non solo della scuderia romagnola ma anche altri provenienti dal centro Italia. Cinque le categorie che hanno svolto la propria esibizione a colpi di derapate, motard, apecar proto, camion, auto e kart cross. L'intero incasso è stato devoluto in beneficenza con un occhio sempre rivolto alla sensibilizzazione e alla sicurezza stradale. Il drifting è una disciplina un po' strana, è una disciplina che viene vista con l'occhio sempre leggermente chiuso. Nonostante questo abbiamo trovato la disponibilità, cartodromo fantastico in una location facilmente raggiungibile dove siamo a due chilometri dall'uscita dell'autostrada di fermo, due chilometri e mezzo dal mare perché siamo anche vicinissima ad una località turistica ma siamo nel posto dove le emozioni oggi andranno a braccetto con il rombo dei motori. Dopo una prima edizione soprattutto improntata sulle vetture adesso ingrandiamo la famiglia con camion, super moto, prototipi, ape proto e continueremo naturalmente la grande emozione delle vetture.